Benvenuto su Gossip in the News. Prima di aggiornarti sulle ultime notizie ti invitiamo a iscriverti al canale. Per noi il tuo contributo è importante. Grazie di cuore. Tragica scomparsa per la comunità ecclesiastica italiana, dove un giovane e molto amato membro ha lasciato tutti i sgomenti con la sua improvvisa di partita. Nonostante la sua giovane età e l'affetto di coloro che lo circondavano, non c'è stato scampo per lui, poiché il destino ha deciso di interrompere prematuramente il percorso di Don Roberto Pozzi, vicario parrocchiale di Paolo, che si è spento a soli 32 anni. Il dramma si è consumato ieri pomeriggio, mentre Don Roberto faceva ritorno a casa dopo aver partecipato al pranzo di Natale con gli anziani della comunità. Nato il 19 settembre 1991, egli faceva parte della parrocchia di Mulazzano, ma il suo impegno pastorale lo aveva portato a servire a Paolo fin dai giorni antecedenti al diaconato. La vocazione al sacerdozio rappresentava per Don Roberto un autentico percorso di maturità, culminato con la sua ordinazione sacerdotale. Questo momento aveva rappresentato una gioia profonda non solo per lui, ma anche per la sua famiglia e per l'intero paese d'origine, Mulazzano. L'addio improvviso di Don Roberto Pozzi lascia un vuoto doloroso nella comunità ecclesiastica e tra coloro che lo conoscevano. La sua dedizione al servizio spirituale e la sua prematura partenza sono motivo di lutto e riflessione per tutti coloro che hanno condiviso la sua presenza nella loro vita. E tu cosa ne pensi di questa tragedia improvvisa? Lascia un tuo commento nei post. A presto!